Benvenuti al nostro quiz. Esplora l'era contemporanea. Rispondi alle 15 domande con soli 3 secondi per ciascuna. Sfida i tuoi amici e abbonati al nostro canale. In quale anno è scoppiata la prima guerra mondiale? 1914. Chi era il leader sovietico durante la guerra fredda? 19. Joseph Stalin. Quale evento storico ebbe luogo il 20 luglio 1969? 20. Sbarco sulla luna. Chi era il primo presidente degli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda? 20. George Herbert. Walker Bush. In quale anno è caduto il muro di Berlino? 1989. Chi era il leader nazista durante la seconda guerra mondiale? Adolf Hitler. Quale città giapponese fu bombardata con la prima bomba atomica nel 1945? 25. Hiroshima. Chi era il leader politico e spirituale dell'India che condusse la nazione all'indipendenza nel 1947? Mahatma Gandhi. In quale anno l'India ottenne l'indipendenza dal dominio britannico? 1947. Chi era il presidente degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam? Lyndon Baines Johnson. Quale è stata la prima nazione a lanciare un satellite artificiale nello spazio? 25. Unione Sovietica. Chi fu il leader cubano che guidò la rivoluzione e instaurò un regime comunista a Cuba? 26. Fidel Castro. Quale evento storico ha avuto inizio con il famoso discorso di Martin Luther King I Have a Dream? 27. Marcia su Washington. Chi fu il presidente degli Stati Uniti che ha firmato il Civil Rights Act del 1964? 27. Lyndon Baines Johnson. In quale anno fu fondata l'Organizzazione delle Nazioni Unite? 1945. 1945. 1945. 1945. 1945. Grazie a tutti.